I carabinieri della stazione Carabinieri di Chiaia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 7 persone gravemente indiziate di associazione finalizzata al furto e alla recettazione di veicoli. Gli indagati, tutti gravati da precedenti residenti nell'area vesoviana, avrebbero commesso tra aprile e dicembre 2018 una serie innumerevole di furti di autovetture tra Napoli e provincia e nel territorio agronocerino sarnese. Le indagini hanno preso il via proprio a seguito di un furto di un veicolo di grossa cilindrata sulla via riviera di Chiaia di Napoli. I carabinieri hanno individuato la targa dell'autovettura utilizzata dagli autori del furto, arrivando ad esito delle indagini a raccogliere gravi elementi sull'esistenza di una vera e propria struttura organizzativa che con una specifica distribuzione dei ruoli tra gli associati si occupava di individuare le autovetture da rubare, predisporre tutti i mezzi e gli strumenti necessari ed infine eseguire materialmente i furti. I reati predatori venivano commessi utilizzando sempre la stessa tecnica, consistente nella preventiva ricerca di un'autovettura parcheggiata in strada da trafugare. Una volta individuata, veniva forzato il meccanismo di accensione del veicolo. Infine l'autovettura rubata, guidata da uno dei complici, si allontanava, scortata dagli altri e veniva ricoverata in capannoni preventivamente individuati. Tra la strumentazione utilizzata per i furti rinvenuta e sequestrata dai carabinieri, chiavi vergini con cui sostituire le originali, telecomandi, jammer e dissuasori per i sistemi di allarme e di rilevazione GPS.